Madre mia, Albano racconta la storia di mamma Yolanda Stasera su Rete4, va in onda Madre Mia, prima di due puntate, la successiva è prevista domenica 17. La docu-fiction evento in cui Albano Carrisi ripercorre la propria vita e la carriera, partendo dal rapporto con la madre Yolanda Ottino. Il programma della Rete diretta da Sebastiano Lombardi porta sotto la luce dei riflettori una donna, la cui vita sembra un romanzo, ma anche tutte le generazioni dei Carrisi. . Oltre ai due personaggi centrali, infatti, ci sono anche le testimonianze e i ricordi di Romina Power e dei figli del cantante Cristel, Romina e Lunga R, Iari, fino ai più piccoli Jasmin e Albano e Lunga R. . Al nutrito gruppo, inoltre, si aggiungono tante special guest, Lino Banfi, Mara Vennietti, Michele Placido, Orietta Berti, Toto Cutugno, Robi Focchinetti. . Tutti amici di Albano e tutti testimoni di un rapporto unico e speciale, quello che lega il cantante a mamma Yolanda. .